Benvenuti in questo nuovo video e anche in relazione al gruppo di sostegno ai gruppi di preparazione al TFA sostegno ma soprattutto a quello che mi avete richiesto decido questa volta di fare un video relativamente all'insegnante di sostegno vi anticipo che ci sarebbe veramente tantissimo da dire e che probabilmente in questo video non riuscirò cioè riuscirò probabilmente a dire un 2-3% di tutto il mondo che riguarda l'integrazione scolastica il mondo della legislazione, della storia e dell'evoluzione della normativa di integrazione perché sicuramente contestualmente all'insegnamento del sostegno è importante anche comprendere bene quali sono tutte le normative quali sono tutti i documenti, le leggi, i decreti legislativi i progetti di sostegno che sono stati fatti nel corso degli anni e diciamo che può essere a mio avviso interessante partire proprio da questo punto citando una breve parte dell'articolo 3 dell'articolo 3 della Costituzione Italiana 3 Costituzione Italiana lo metto virgolettato perché a mio avviso è molto bello molto importante allora tutti i cittadini hanno, molti di voi già lo conoscono questo articolo però io lo voglio ribadire hanno pari dignità sociale e sono uguali dinanzi alla legge senza distinzione di sesso di razza io me lo sono ormai imparato a memoria di opinione relativamente alle opinioni politiche di opinione politica ovviamente anche rispetto alla religione quindi non ci sono distinzioni nemmeno rispetto alla religione e quello che forse riguarda soprattutto coloro che insegnano sostegno di condizioni personali e sociali siamo tutti uguali ok quindi formalmente questo principio di eguaglianza significa pari dignità sociale quindi è una dignità ed è un'uguaglianza formale e sostanziale è un'uguaglianza formale perché tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge quindi non possono essere emanate leggi che possono creare disparità di trattamento quindi la legge è uguale per tutti si va a applicare a tutti nessuno può porsi al di sopra di essa né i pubblici poteri possono fare discriminazioni fra i cittadini quindi il principio di eguaglianza come principio strettamente legato al principio della legalità che costituisce la base per l'esercizio di tutti i diritti fondamentali ovviamente c'è il divieto di discriminazione quindi la legge non può distinguere le persone in ragione del sesso di razza di origine etnica di lingua di religione l'uguaglianza invece in senso sostanziale comporta che situazioni uguali vengono trattate in modo uguale ma anche che situazioni diverse vengono trattate in maniera diversa e quindi che bisogna dare a tutti bisogna nemmeno è opportuno non è un'indicazione è un dovere bisogna dare a tutti pari opportunità rimuovendo tutti i fattori che possono creare disparità a livello sociale culturale economico eccetera quindi dice ancora l'articolo 3 ve lo leggo è compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del paese quindi la costituente palesa che non è sufficiente stabilire il principio dell'uguaglianza quando ci sono quando esistono ostacoli di ordine economico sociale e psicologico che quindi di fatto vanno a limitare questa uguaglianza quindi la repubblica deve rimuovere tali ostacoli e infatti nell'articolo 3 si recita che gli ignabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale a questo punto è bene parlare dell'integrazione scolastica quindi una scuola aperta a tutti e delle prime leggi le cominciamo a vedere nel 1971 quando l'istruzione obbligatoria debba avvenire nelle classi normali della scuola pubblica salvi i casi di gravi deficienze intellettuali o menomazioni fisiche questo è l'articolo del una legge del 30 marzo del 1971 al numero 18 se ve lo andate a vedere che l'istruzione è obbligatoria l'istruzione obbligatoria quindi per la prima volta c'è un principio secondo il quale per i minori invalidi civili quindi per i minori invalidi civili e per tutti gli studenti per tutti cancelliamo perché uno studente già fa parte della scuola meglio ah per chi non mi conoscesse siamo in diretta quindi ovviamente se vedete queste cose perché non non le non le posso cancellare quindi per i minori invalidi civili e per tutti i ragazzi la scuola è obbligatoria e deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica in classi normali e ancora ci sarebbe veramente tanto da dire andiamo direttamente ad una normativa del 1971 in cui si legge che il superamento di qualsiasi forma di emarginazione degli handicappati passa attraverso un nuovo modo di concepire e di attuare la scuola così da poter veramente accogliere ogni bambino e ogni adolescente quindi diventa fondamentale l'accoglienza di tutti i bambini e adolescenti senza nessuna distinzione ovviamente per favorirne lo sviluppo personale e ovviamente la frequenza di scuole comuni da parte di bambini handicappati non implica il raggiungimento di metri culturali minime comune poi ci fu il decreto Falcucci e il primo di fatto il primo testo legislativo diretto a disciplinare in maniera completa ed asferente l'integrazione degli alunni portatori di handicap per la legge del 5 agosto del 1977 vedete cioè ci rendiamo conto come sono tutte leggi relativamente recenti e tra le varie disposizioni quindi innovative dove essenzialmente si pone l'accento nella valutazione degli alunni nella programmazione nell'abolizione di esami di riparazione questo documento fondato sul documento Falcucci pone gli alunni in una situazione diversa intanto per attuare l'integrazione comincia a esserci la figura dell'insegnante di sostegno nelle scuole elementari e medie e il principio dell'individualizzazione dell'insegnamento quindi insegnante di sostegno nelle scuole primarie e secondarie di primo grado a cui poi segue questo ve lo leggo l'articolo 2 all'articolo 2 la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della stessa classe oppure di classi diverse anche lo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze di singoli alunni nell'ambito di tale attività la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps lo scrive lo scrissero con ovviamente con un errore misero la S perché in inglese per dire cioè ovviamente handicap è una parola poi italianizzata in inglese per raggiungere cioè per rendere una parola plurale si aggiunge la S finale però handicaps mi è avviso un errore è un errore dire ad esempio vi presento le slides vi presento le slide nel momento in cui una parola inglese viene italianizzata è giusto non seguire più la grammatica inglese comunque fatto questo breve considerazione con la prestazione di insegnanti specializzati ovviamente specializzati dove nel sostegno devono inoltre essere assicurati la necessaria integrazione specialistica il servizio socio-psicopedagogico le forme particolari di sostegno e ancora sarebbe interessante parlare dell'articolo 7 poi nella legge del 1982 io adesso faccio un rapido excursus poi se vi interessa questo excursus sarà meno rapido e sarà più approfondito via l'introduzione dell'insegnante di sostegno nella scuola materna quindi sostegno nella materna nella scuola materna questo anche fu una grande novità infatti nell'articolo 12 legge 270 del 1982 viene stabilito che ciascuna sezione di scuola materna è costituita con un numero massimo di 30 bambini ed un numero minimo di 13 ridotti rispettivamente a 10 a 20 e a 10 per le sezioni che accolgono bambini portatori di handicaps ancora con questo handicaps poi vi sono diversi quadri normativi diversi leggi e a un certo punto vi è la legge 104 del 1992 che tutti conosciamo che è una legge quadro ho problemi con la lavagna continuo tanto avevo intenzione di non prolungare legge quadro per l'assistenza l'integrazione sociale i diritti delle persone handicappate 4 focalizzata dove assistenza integrazione sociale e diritti ovviamente delle persone handicappate quindi la legge ribadisce amplia il principio dell'integrazione sociale scolastica rimuovendo le condizioni cercando di far impegnare lo Stato rimuovere le condizioni validanti che impediscono ovviamente l'uguaglianza nei confronti di studenti che hanno dei limiti nell'articolo 12 si recita il diritto all'educazione e all'istruzione nell'articolo 13 l'integrazione scolastica nel 14 la modalità di dotazione dell'integrazione nel 15 gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica nel 16 la valutazione del rendimento delle prove di esame si parla per la prima volta del documento DF noto come diagnosi funzionale del PDF che non è un file di Adobe Reader ma il profilo dinamico funzionale del pay del piano educativo individualizzato piano educativo metto puntato individualizzato quindi vedete quante novità tutte all'interno della medesima legge ecco io con questo desidero fare solo alcune precisazioni alcuni commenti e poi desidero finire qui perché non non mi è stato detto cioè mi è stato chiesto di fare una velocitazione in merito a quanto detto però desidero anche non dilungarmi troppo e che altro dire ma sicuramente forse in tanti lo avete pensato anche se non lo leggo da nessuna parte tutti coloro che hanno il titolo di specializzazione e sostegno TFA3 TFA4 adesso c'è il 5 vedo già che vi cominciate a preparare per il concorso del TFA6 ma tutti tutti ripeto gli insegnanti diventeranno di ruolo secondo il criterio peraltro che concordo che per il ruolo c'è bisogno di superare un concorso pubblico bene ma lo sanno ovviamente tutti i diretti interessati tutti quelli che hanno superato il TFA sostegno hanno fatto un concorso dove ad esempio a Roma c'erano talmente tante persone a questo concorso mi ricordo facevano le prove nella sede della Fiera di Roma dove 3-4 mila persone per la scuola materna ma anche per la scuola secondaria si preparavano questo concorso per poi magari avere solo 200-300 posti a disposizione voglio dire è stato fatto un concorso con prova preselettiva feroce con prova scritta con prova orale poi 60 crediti formativi universitari laboratori lezioni anche col 100% di frequenza di obbligatorietà di frequenza quindi bisognava andare lì anche in situazioni difficili e gravi bisognava preparare c'è stato bisogno di fare un tirocinio di diverse centinaia di ore mentre adesso paradossalmente potranno diventare di ruolo insegnanti che con 24 CFU per carità fanno un concorso e magari non hanno mai avuto esperienza nella scuola invece qui si è fatto un tirocinio con un tutor si è seguito un ragazzo sono stati affrontati dei casi è stata fatta una tesi una tesina una tesi di laurea dopo tutto questo sono stati anche spesi 3000 euro per partecipare a questi corsi di specializzazione speciale e che cosa fa lo Stato quando stiamo andando nella direzione in cui addirittura chiamano da graduatori incrociate di seconda fascia di persone che non hanno mai insegnato nel sostegno o che addirittura non hanno proprio mai insegnato e gli viene affidato un caso di sostegno perché i posti necessari sono parecchi gli insegnanti di sostegno specializzati ce ne sono tanti ma lo Stato ovviamente ha necessità di molti più insegnanti di sostegno e che fa mette un ulteriore concorso per mettervi ruolo io non so se ci avete già pensato perché personalmente io mi riferisco a tutti in realtà pochi in pochi vi siete iscritti al canale più del 75-80% non mi conosce o non mi segue regolarmente anche se poi mi lasciate sempre dei commenti meravigliosi però ci pensate che voi avete tutti io mi sto riferendo adesso a una piccola parte degli insegnanti che faranno il concorso è una cosa normale è una cosa strana voi avete già vinto il concorso l'insegnante ha una necessità incredibile di voi e che fa sarete gli unici che dovranno per diventare di ruolo dovranno effettuare un doppio concorso bene io vi lascio insomma con questo pensiero con questa riflessione personale senza volermi cioè non è mia intenzione quella di essere dalla parte degli insegnanti di sostegno qua si parla proprio di dati oggettivi di di valutazioni che io all'inizio ho detto personali però obiettivamente sono personali fino a un certo punto sono fatti veri bene io con questo allora vi saluto vi lascio augurandovi una buona continuazione di giornata e a presto scrivetemi in tanti iscrivetevi e condividete il canale a presto a presto Grazie.